Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli, intervento dei NAS di Udine in un asilo nido comunale con pareti incrostate e infiltrazioni d'acqua è stato immediatamente disposto il ripristino dei locali per la sicurezza dei bambini e degli insegnanti i fatti risalgono allo scorso novembre quando i carabinieri del NAS di Udine hanno riscontrato diverse carenze strutturali in un asilo nido gestione comunale di Trieste sono state riscontrate in particolare diverse infiltrazioni d'acqua e il distacco dell'intonaco delle pareti visto il grave pregiudizio per l'igiene e la salute dei bambini sono state impartite al comune tutte le prescrizioni per l'immediato ripristino dello stato degli ambienti gli operai hanno eseguito immediatamente le opere diversamente la struttura sarebbe stata chiusa si tratta dell'asilo La Barchetta di via Manzoni a Trieste conferma l'assessore comunale Angela Brandi è una costruzione ricente inaugurata con la giunta Illi alla fine degli anni 90 ed è inaugurata dalla giunta di piazza inizio anni 2000 l'edificio è vincolato spiega quindi per intervenire in modo più strutturato abbiamo dovuto attendere le autorizzazioni lo spandimento era dovuto alle piogge intense di quel periodo appena segnalato abbiamo effettuato un lavoro importante di pulizia e ripristino e ora potendo contare sulle festività natalizie procederemo con la sostituzione del pluviale con un intervento per contrastare le infiltrazioni di capillarità sulla facciata purtroppo è un edificio che presenta alcune criticità costruttive che andremo a risolvere con un lotto di interventi da 40.000 euro e si svolgeranno domani alle 15 nel Duomo di Lignano Sabiadoro i funerali di Amanda, figlia di Giovanni Iermano consigliere comunale di opposizione ed ex vice sindaco ed Elisa Ferlizza, titolare di un negozio di profumi della località balneare la bimba è venuta a mancare domenica 24 novembre a solo un mese dalla nascita domani la comunità lignanese potrà dare il saluto alla piccola e stringersi ai genitori in un momento così triste e di grande dolore ladri nella notte nel supermercato Eurospin di Codroipo dove i malviventi sono entrati dopo aver spaccato una porta sul retro in cerca di un narro contante hanno frugato negli uffici per poi impossessarsi di un piccolo forziere che conteneva documentazione amministrativa a dare l'allarme al suo arrivo in negozio è stato questa mattina presto il responsabile del punto vendita sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Codroipo per un primo sopralluogo dopo l'invasione delle nutrie scatta un nuovo allarme in fru di mezza Giulia per l'area costiera e per i canali si tratta di una pianta infestante che minaccia la fauna autoctona C'è una pianta misteriosa che potrebbe danneggiare l'ambiente naturale friulano Sì, il consorzio di bonifica è stato recentemente contattato dalla direzione regionale delle risorse agricole tramite la dottoressa Carparelli che vuole sfruttare la nostra attività noi tutti i canali in nostra gestione del reticolo di scolo di fatto li passiamo due volte all'anno palmo a palmo ci sono delle specie invasive, infestanti che la comunità europea ci sta dicendo di rimuovere e appunto sta partendo uno studio per il rilievo e la localizzazione di queste specie siamo all'inizio, la dottoressa ci spiega che in questa fase prima si interviene e c'è la possibilità di fermare questa prolificazione Ci sono delle piante dannose già note su cui si sta intervenendo? Sì, la direzione regionale ci ha già indicato delle specie e abbiamo fatto già dei primi interventi per la rimozione la situazione non è così semplice perché alla fine anche i mezzi che fanno questa operazione di fatto si inquinano a contatto con queste specie quindi devono essere lavati per fare le successive operazioni si prevede infatti che le specie che siano recentemente arrivate siano arrivate perché erano presenti nel Veneto e quindi probabilmente qualche mezzo di manutenzione dalla zona ha iniziato a operare anche nei nostri canali Una persona si è sentita male questa mattina nella sua abitazione di Ronchi dei Legionari dopo l'allarme lanciato dallo stesso residente i sanitari appena giunti sul posto hanno riscontrato un'intossicazione da monossido di carbonio e hanno portato subito la persona all'ospedale sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco che hanno accertato la presenza del micidiale gas all'interno della dimora Il comune di Grado si dota di un ascensore per rendere il municipio più accessibile ma per la cittadina turistica ancora molti passi devono essere compiuti per renderla più accessibile per chi non riesce a muoversi Con l'inaugurazione dell'ascensore del municipio di Grado la cittadina turistica compie un passo avanti per l'accessibilità non solo a persone con disabilità motoria ma a varie fasce con difficoltà a muoversi E' un bel passo in avanti per rendere accessibile il nostro municipio a tutti i piani e a tutte quante le persone A noi abbiamo provato il PEBA Partiremo adesso con un primo lotto di lavori di circa 90.000 euro e pian piano lo porteremo a compimento e quindi per rendere accessibile tutta quanta la città Tra le opere in previsione sull'isola anche se non di responsabilità comunale anche il rendere accessibile l'antica Basilica di Santa Maria delle Grazie ad opera della parrocchia Una rampa è già presente per la Basilica di Santa Eufemia ora tocca all'altra Tornando a livello comunale però ci sono ancora opere da realizzare Mancano logicamente ancora da sistemare molti incroci del contesto urbano per renderli più accessibili e dopo logicamente tanti pubblici esercizi quindi bar, ristoranti e negozi che per il fenomeno sapete dell'acqua alta li hanno realizzati con uno o due gradini quindi adesso cercheremo anche come amministrazione di incentivare i privati affinché rendano accessibili i pubblici esercizi E' un discorso appunto come dicevo di sensibilità e di civiltà quello di rendere accessibile un contesto urbano perché va bene a tutti non solo le persone disabili pensiamo a tutte le persone alle mamme con le carrozzine a tutti con i girelli e quant'altro quindi una grande vittoria è quella di rendere un comune accessibile è stata inaugurata a Udina la nuova sala gioco destinata a bambini con bisogni comunicativi complessi della comunità Pier Giorgio Onlus questo è un esempio da portare in dote alle nuove generazioni la capacità di ricercare il bene comune di dare risposte flessibili, intelligenti vicine ai bisogni concreti della gente risposte che per questo sono le migliori possibili che se fatte dal pubblico non sarebbero così efficaci e costerebbero molto di più a dirlo il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin che è intervenuto con lo scienziato Marco Ferrari all'inaugurazione del nuovo servizio il progetto ideato da comunità Pier Giorgio insieme con Orsa organizzazione sindrome di Angelman ha il sostegno di Blue Energy era stato presentato un anno fa con lo spettacolo si fa per dire al teatro nuovo di Udine di cui era stato protagonista lo stesso Ferrari l'intervento ha previsto la ristrutturazione l'allestimento di una stanza dotata di giochi e materiali idoni nella quale i bambini con disabilità comunicative hanno l'opportunità di sperimentare e condividere con genitori, insegnanti, educatori le attività ricreative adatte e facilmente ripetibili anche nell'ambiente di vita del nuovo servizio hanno parlato il presidente della comunità Pier Giorgio Sandro Dalmolin e di Orsa Ferruccio Pin padre di un bambino con disabilità comunicative migliorerà la vita dei bimbi con un grave deficit comunicativo che comporta gravi conseguenze sul piano relazionale cognitivo linguistico e sociale si avvale della consulenza dell'esperta in comunicazione aumentata alternativa a Barbara Porcella oltre che di diverse figure professionali della comunità il concetto fondamentale che la comunità Pier Giorgio vive tutti i giorni è che ciò che conta nella vita è aiutare chi ha bisogno di noi l'unica cosa che non stanca che dà un significato è una gioia che restano nel tempo ha detto così Mauro Ferrari stasera al Palamostra il compositore udinese Andrea Centazzo presenta il suo ultimo spettacolo uno show multimediale dedicato a Leonardo che ha già fatto il giro di America Asia Europa Autore di almeno 400 composizioni creatore di un'etichetta discografica storica con più di 200 album all'attivo l'udinese Andrea Centazzo residente a Los Angeles dal 90 cittadino americano per meriti artistici negli ultimi anni si è occupato di grandi temi cosmici nei suoi spettacoli multimediali occasionalmente presentati anche in Friuli il suo nuovo progetto che ha già girato con successo America Asia ed Europa arriva stasera anche nella sua città natale al Teatro Palamostra ed è legato alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo The Seer, il veggente è un percorso multimediale in sei parti nella vita e nelle opere di Leonardo che conduce lo spettatore attraverso le diverse fasi della genialità di un artista e inventore visionario unico la parte musicale composizioni scritte da Centazzo per elettronica e percussioni dialoga con quella visiva composta da immagini delle opere di Leonardo spezzoni da film e riprese fatte ad hoc per lo spettacolo creando piccole sinfonie autonome per raccontare l'uomo che secondo Freud si svegliò troppo presto nell'oscurità mentre gli altri erano ancora tutti addormentati Mila spettatori al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per il concerto del Cechedaccio Symphony Orchestra Friuli Venezia Giulia il pubblico si è scatenato in sala al ritmo delle più conosciute hip hop e rock anni 70-80 Mamma mia degli Abba Night Fever dei Bee Gees I Will Survive dell'indimenticabile Gloria Gaynor Sir Duke di Stevie Wonder Music di John Miles Disco Inferno di The Trump assieme a colonne sonore di film che hanno fatto sognare generazioni come Greece e Village People sono alcuni dei brani in repertorio a Let the Music Play titolo del concerto tenuto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine dalla Cechedaccio Symphony Orchestra Friuli Venezia Giulia al successo ottenuto lo scorso anno sempre al Teatrone Udinese sul concerto per i 25 anni della sua storia anche quest'evento tenacemente voluto da Renato e Carlo Pontoni anime del Cechedaccio si è rivelato di elevato gradimento con pubblico scatenato al ritmo delle più conosciute hip hop e rock degli anni 70 e 80 celebrato quale evento inserito nel cartellone natalizio del comune di Udine con presentazione della giornalista Martina Riva Let the Music Play è un progetto unico nel suo genere in Italia se non per serate occasionali partorito dai citati Renato e Carlo Pontoni con la collaborazione di grandi professionisti un'orchestra con una trentina di componenti fra voci e musicisti provenienti da tutta la regione diretti da Denis Feletto ad eseguire dal vivo le più famose hit anni 70 e 80 appositamente riarrangiate e rielaborate dallo stesso Denis Feletto compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra da Domenico Mazon, maestro all'Accademia d'Archi a Rigoni di San Vito al Tagliamento e dal maestro Walter Sivilotti con tecnico del suono Stefano Amerio affinché l'evento possa calcare altri palcoscenici dentro e fuori regione con un genere musicale intramontabile che con colonne sonore di film ha fatto sognare intere generazioni Siamo in chiusura subito dopo la pubblicità appuntamento con a voi la linea grazie per l'attenzione e buona giornata grazie a tutti